Dalla morte del devoto alle infiltrazioni mafiose, passando per l'ignobile gazzara in cattedrale. L'edizione 2012 di Sant'Agata passerà agli annali per la tensione in via San Giuliano, dove al posto del canto delle suore benedettine si sono sentite le urla e i mugugni di un gruppetto di fanatici che si opponevano alle decisioni del capovara Claudio Baturi di annullare la salita per motivi di sicurezza. La legalità per alcuni minuti ha lasciato il passo a momenti di autentica follia, con il fercolo che ondeggiava tra i fedeli, tanto da far temere per l'incolumità di migliaia di persone. Delinguenti, delinguenti non devoti. È chiaro che se ne prende qualche ulteriore provvedimento, io non so se si possa fare quello che viene fatto negli stati, il DASPO, ma io incomincio a pensare, discuteremo con questore e col prefetto, qualcosa che possa, non lo spetta a me ovviamente farlo, non sono io l'autorità di pubblica sicurezza, che ci metta nelle condizioni di isolare questi delinguenti che macchiano una festa importante come quella di Sant'Agata. In attesa di sapere se ci saranno risvolti penali, il pensiero occorre all'edizione 2004, ristata al lutto per la morte di Roberto Calì, travolto sulla salita di San Giuliano. Per l'omicidio colposo del devoto è stato condannato a quattro mesi, pena sospesa, l'ex capovara Alfio Rao, da un processo concluso ad un altro ancora pendente, riguardante questa volta le presunte influenze del clan Santa Paola sulla ricorrenza a Gatina, una festa nella quale, questa l'accusa, si scommetteva su tutto, dall'orario di rientro del Fercolo alle candelore in corsa sulla salita di San Giuliano. In palio non soltanto denaro fresco, ma la volontà di impossessarsi della festa per una questione di visibilità, prestigio ed immagine. Già immagine, quella macchiata dalla vergognosa rissa in cattedrale che neanche i bookmakers avrebbero pensato di inserire tra le scommesse.